Su Il Sipario, venerdì 22 aprile prossimo, per la Festa dell'Abbondanza, l'evento organizzato dall'Associazione Demetre e Core, patrocinato dal Comune di Gela, permetterà agli operatori agricoli e artigianali di promuovere i propri prodotti e le loro attività, ma anche di far conoscere nuove metodologie produttive. Un programma ricchissimo di eventi, soprattutto dal punto di vista musicale, teatrale e cinematografico, nonché con delle conferenze molto contestuali rispetto a quello che è il problema dell'agricoltura e anche delle nuove frontiere di quello che può rappresentare come la cana, il cotone o i frumenti antichi. Noi stiamo cercando comunque di valorizzare anche gli artisti locali, come musicisti e attori, anche perché sono stati un po' messi da parte, quindi cercheremo di dare molto più spazio tramite questo evento. In Piazza Salandra verranno i musicisti e i cantanti gelesi, mentre nel Sacrato della Chiesa Madre ci saranno degli attori con opere teatrali, musical e soprattutto anche piccoli attori. Abbiamo invitato praticamente la squadra del Gela Calcio, che dopo una stazione in dosi e sbande, con la vittoria di domenica, ha vinto il campionato, per cui abbiamo invitato tutta la squadra del Gela Calcio a partecipare con noi nella serata della domenica. Speriamo che ci sia anche l'ingegnere Tuccio, che magari ringrazierà anche lui i tifosi. Un ritorno alle nostre tradizioni, sia al mondo agricolo, ne mettercora erano due antichi riferimenti religiosi al periodo greco, che rappresentavano proprio l'abbondanza che veniva data dalla terra, la prosperità. È un'iniziativa nuova, speriamo che i cittadini gelesi la gradiscono in modo tale da poterla ripetere negli anni futuri.